Lo scorso anno una manifestazione in piazza tra la gente per ricordare a tutti l'importanza del ruolo ricoperto. Quest'anno una iniziativa ancora più incisiva per sensibilizzare i cittadini e istituzioni sulle frequenti aggressioni negli ospedali ai danni degli operatori sanitari. Il 12 maggio ricorre la giornata internazionale dell'infermiere e l'ordine delle professioni infermieristiche di Campobasso Isernia ha realizzato uno spot di un minuto sulla violenza ai danni degli infermieri troppo spesso aggrediti all'interno degli ospedali anche quelli molisani. Un fenomeno in preoccupante aumento al quale va necessariamente posto un argine. Da qui l'idea di realizzare il filmato con gli infermieri che per un giorno hanno vestito i panni degli attori. In occasione della giornata del 12 maggio giornata internazionale dell'infermiere abbiamo voluto organizzare un cortometraggio come ordine degli infermieri di Campobasso Isernia che mette in evidenza la violenza sugli operatori sanitari. Naturalmente portiamo avanti anche l'iniziativa dello slogan della federazione perché non c'è sanità senza infermieri ma noi abbiamo voluto focalizzare l'importanza della violenza sugli operatori perché non a caso anche nella nostra regione ci sono stati eventi importanti relativamente ad aggressioni. Non bisogna assolutamente rivolgersi in modo aggressivo contro chi ha un lavoro, una professione e ha fatto un'alleanza con il cittadino. Per cui noi abbiamo voluto rimarcare con questo cortometraggio l'importanza della figura infermieristica nell'alleanza della presa in carico con il cittadino. Parliamo di questo cortometraggio come l'avete realizzato? Con chi? Ecco ci spieghi un po' come è nata questa idea. Allora l'idea è nata all'interno del consiglio direttivo dell'ordine degli infermieri proprio grazie al volere degli infermieri tant'è vero che gli attori sono infermieri. Lei è una delle attrici di questo corto? Sì sono una delle protagoniste di questo corto e infatti è stata una cosa devo dire molto divertente. All'inizio un po' di emozione c'è sempre perché comunque fa parte della nostra indole ecco fare qualcosa di nuovo, di diverso, un po' di emozione c'è sempre. Abbiamo raffigurato ecco questo diciamo vivere tra virgolette quotidiano un po' del nostro lavoro ormai da un po' di tempo che è appunto la violenza sugli operatori. Io personalmente lavoro al 118, ho lavorato anche in pronto soccorso quindi ho vissuto personalmente dal vivo questi episodi che vi assicuro non sono gradevoli. Quindi spero che, voglio dire, questo messaggio che abbiamo fatto, questo cortometraggio possa essere di input per tutta la popolazione, per gli infermieri in particolare, a far sì che possiamo lavorare in modo più collaborativo.